Abbiamo fatto un lavoro a questa squadra, a un'altra città, con il vostro libro e il più bello del quotidio di tutti i nostri. Il giorno lavorato, sette giorni del mattino. Io vi ho avuto con lui una volta qua. Quando era possibile, il giorno che lui è morto, è chiamato, è arrivato un'altra menore. Esattamente io, che è successo. Piero, so come posso ringraziare la domenica, mi sa che dici che loro hanno anticipato, spero di portare avanti a una società, a una società. Posso continuare a parlare, ma non ce la faccio. Grazie per essere qui. E ricordate che il giorno sarà sempre, sempre, sempre... ... ... ... ... ... ... ... ... ...